Respirat è un sogno che sia vera, un percorso, una galleria a cielo aperto dove sono esposte opere d'arte in un ambiente unico e appunto un sogno mio e un'invenzione insieme a Beatrice che è diventata realtà. Grazie a tutti. La natura viva si rifà ad un quadro che noi abbiamo qui davanti dove la natura l'accoglie in divenire, in progress, non come nei quadri dipingendolo ne fermi un istante solo. L'idea è stata questa, di trovare appunto una serie di sfondi alla Leonardo, il più grande pittore del mondo che non è un pittore, per dare questa profondità di campo e poi questa struttura che volutamente richiama una cosa da chiesa, una cosa un po' sacra, perché è sacra questa natura che osserviamo. La presenta è dei bozzoli di farfalla. Bozzoli fatti con la lana e tronchi di larice. Questo praticamente è un lavoro che nasce dall'osservare come fanno i bozzoli le farfalle, ingrandito, praticamente preso ed ingrandito. Ha un significato più profondo nel senso che è stato ispirato da un aforisma di Alda Merini che dice che l'arte è un mistero che ha lì di farfalla. Una bolla è un pensiero. Una bolla è un pensiero di situazione, di persone, una valanga di pensieri. Grazie. 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 Grazie.